Sei entrato nel tuo appartamento. Mocchi di oggetti che non usi più da tanto tempo ingombrano ogni angolo. Ti ritorna in mente il modellino in edizione limitata della Ferrari 250 TR Testarossa che hai visto nel negozio di antichità locale. Il prezzo è eccessivo per le tue tasche e manca un adeguato spazio per esporla in bella mostra in casa tua. Ti suona familiare? Tutti abbiamo sperimentato uno scenario come questo ad un certo punto della nostra vita. Così abbiamo iniziato a pensare se esisteva una soluzione a questi problemi comuni. Il consumismo eccessivo e i conseguenti rifiuti dilagano nella nostra società. Lottiamo per acquisire nuovi prodotti ad ogni costo mentre altri, perfettamente in buono stato, sono abbandonati o gettati senza troppi pensieri. Così abbiamo creato Swallet. Swallet sostituisce il tradizionale shopping con un sistema di scambio senza denaro. Semplice e brillante. La nostra piattaforma permette di scambiare con gli altri utenti i vostri oggetti non utilizzati tramite un sistema di cessione di crediti. Il sistema di acquisto di Swallet assicura un ambiente privo di denaro. È lo spunto per costruire una comunità attiva nel sostenere e diffondere un modello di consumo attento al sociale. Ogni articolo può essere acquistato offrendo un proprio oggetto e l'invio di una certa quantità di credito destinandolo all'utente il cui oggetto ha attirato la tua attenzione. Pronto a saltare nel futuro? L'approccio socialmente consapevole di Swallet al consumismo ci aiuta ad avere cura del nostro pianeta. Unisciti a noi oggi!